Oh, oh, sputa! Andiamo? Sì. Va bene, niente passetti fino all'altare, non mi piace. Una cosa veloce, andate e basta, andate. Bene, ok. In piedi, per favore. Oh, 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 oh. La sposa sta avanzando verso l'altare. Maggie Carpenter sta avanzando verso l'altare. Oh, si è fermata Focalizza, focalizzo, guardami Potete sedervi, grazie Ho la macchina fotografica Siamo qui riuniti oggi Vi prego, niente foto Possiamo aspettare la fine della cerimonia? Grazie Siamo qui riuniti oggi Dove sta andando? Maggie, bloccate la porta! No! No, Maggie, non farlo! Ti prego, fermati! Maggie! E la bella è addormentata Come, Maggie, non ci si annoia mai! C'è un signore che sta scendendo le scale con tante caramelle in tasca Se gli fate il soletico ve le darà tutte Voi fategli il soletico Maggie! Il signore che lo vederà tutte le caramelle Ma fategli il soletico! Maggie! Ma che fate? No, non sono io Prendete la sposa cattiva Prendete la sposa cattiva Oh, è un vestito di Armani Aspetti! Aspetti! Maggie! Vai, 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 vai! Maggie! Maggie! No! Aspetta! No! No! Non farlo! Maggie! Le sta correndo dietro È anche in discreta forma Maggie! No! Maggie! Dove credi che la porterà? Non lo so Ma deve consegnarla entro 24 ore Maggie! No! Maggie! Maggie! Mann, ah No! Signor Gran! Singor Gran! Signor Gran! Signor Gran! So Grazie a tutti